La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista all'emittente televisiva statunitense Fox, è entrata nel merito anche di un tema molto caro agli Stati Uniti, cioè i rapporti tra l'Italia e la Cina. Sulla via della seta, la Presidente del Consiglio fa sapere di non avere ancora preso una decisione. La questione, dice, dovrà essere discussa col governo cinese nel Parlamento italiano. Meloni tiene a precisare anche che l'Italia è l'unica nazione del G7 ad avere aderito alla via della seta. Ma non è quella che ha le migliori relazioni commerciali con Pechino. Prenderemo una decisione prima di dicembre, ha detto la Premier. Poche ore dopo, il ministro alla difesa, Crosetto, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto fuori dalla via della seta ma senza fare danni. Già a maggio, sempre sul Corriere della Sera, era uscito un articolo in cui si legge che la decisione di scindere il memorandum con Pechino era già stata presa da tempo. Il ministro Crosetto ha anche paventato il pericolo di fumetti, ha detto proprio così, che descrivono i cinesi come liberatori e gli occidentali come sfruttatori da scacciare. Ora, ricapitolando, la Presidente del Consiglio, dopo la visita al Presidente Biden, rilascia un'intervista in cui dice che la scelta sui rapporti con la Cina spetta al Parlamento. Poco dopo, un ministro dà la decisione per già presa, spiegando perfino i motivi. Vi pare normale? E il Parlamento?